Benvenuti su www.siprec.tv, la prima web tv online sulla prevenzione cardiovascolare. Siamo con il professor Enzo Manzato dell'Università di Padova. Parliamo di colesterolo, professore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo di colesterolo, anzitutto cerchiamo di capire... Che cos'è colesterolo? Ecco, che cos'è? Credo che molte persone nominano questa molecola, perché in termini corretti quando si dice colesterolo si nomina una molecola e colesterolo vuol dire un grasso. Colesterolo vuol dire una sostanza che può sciogliersi solo con certi solventi, solo con quei solventi, stavo per dire con quei saponi, perché sostanzialmente poi è la stessa cosa, che riescono a sciogliere i grassi. Ecco, e da qui molte volte la gente incomincia a pensare colesterolo uguale grasso, quindi se io non sono grasso, non ho il colesterolo. E credo che questa sia una leggenda metropolitana. Il colesterolo è un grasso, ma non necessariamente ha il colesterolo solo chi è grasso, per due motivi. Il primo, il colesterolo è un grasso che è utile al nostro organismo. Avete capito bene e lo ripeto, il colesterolo è utile al nostro organismo, perché con il colesterolo il nostro organismo fabbrica tante cose, fabbrica le cellule, fabbrica alcuni ormoni molto importanti, ma attenzione bene, come tutte le cose di questo mondo, se ce n'è troppo fa male. Allora, troppo colesterolo fa male, ma una giusta quantità di colesterolo fa bene. Ma la leggenda metropolitana, secondo me, continua con un altro aspetto. Siccome io sono magro, non ho il colesterolo. Doppio errore. Quando uno è magro, un po' di colesterolo ce lo deve avere, perché fa bene. Secondo errore. Il fatto di essere magri non significa non avere tanto colesterolo nel sangue. Non c'è modo di sapere quanto colesterolo c'è nel sangue, se non facendo una cosa, prendendo un po' di sangue e misurando il colesterolo che c'è in quel sangue. Quindi, per favore, non pensiamo, quello è grasso, quindi avrà tanto colesterolo, quello è magro e quindi avrà poco colesterolo, quello è magro e quindi non si deve preoccupare del colesterolo. Questo è un fondamentale errore. Anche una persona magra, ripeto, può avere tanto colesterolo e quindi misurare il colesterolo almeno una volta nella vita è una cosa particolarmente importante e diventa ancora più importante quanto più uno ha qualche probabilità di avere un infarto, e cioè se uno fuma, se uno in famiglia ha avuto persone con problemi di infarto, di angina pectoris, misurare il colesterolo è quanto mai utile e non c'è modo di evitare di misurarlo perché prendere le misure del colesterolo dal peso è una cosa decisamente sbagliata. Così come è sbagliato prendere le misure del colesterolo da quello che uno mangia. Non posso sapere se uno ha tanto o poco colesterolo esclusivamente calcolando quanto colesterolo mangia. No, madre natura ci ha costruito in modo tale che il nostro colesterolo può essere tanto o poco ma questo indipendentemente da molte credulità popolari che legano il colesterolo per esempio al peso, per esempio al tipo di alimentazione. Professore, quali sono i valori da tenere sotto controllo? Quali i valori soglia? I valori soglia sono 200. Il 200 deve essere come qualcosa che resta bene impresso nella memoria di tutti. 200 di colesterolo, o meglio, meno di 200 di colesterolo è l'ideale. Più di 200 di colesterolo non necessariamente richiede un farmaco, richiede una terapia. Più di 200 di colesterolo richiede che noi ne parliamo con il nostro medic. Tutto qua. Ultima domanda, professore. Chi sono le persone che si devono preoccupare? Ho detto prima, chi in famiglia ha avuto qualche congiunto con problemi di malattie che riguardano la circolazione del sangue, per esempio l'infarto, l'angina pectoris, queste sono le prime persone che devono chiedersi quant'è il loro valore di colesterolo. Ancora, e questo è fondamentale, in quelle persone che magari sanno di avere avuto, di avere problemi con le coronarie. È chiaro che in questi pazienti il cardiologo per primo si preoccupa del colesterolo. Ci sono un'altra larga fetta di popolazione e sono tutte quelle persone che per loro abitudini, e qui mi riferisco soprattutto al fumo di sigaretta, sono più esposte all'infarto, alla malattia delle coronarie e queste sono le persone che devono preoccuparsi di più di conoscere il loro colesterolo. Grazie professore.